Patek Philippe Gondolo, la storia e l'evoluzione di un'icona di Patek Philippe. I cronometro gondolo rappresentano una parte affascinante della storia dell'orologeria, celebrando l'arte e l'innovazione di Patek Philippe. Questi orologi unici hanno attraversato diverse epoche, dalle loro radici nei primi del Novecento ai vivaci anni Venti, fino ai modelli moderni che ancora incantano gli appassionati di orologi in tutto il mondo. La collezione gondolo che oggi rivive è il risultato di studio, idee e strategia. Tuttavia, sembra che ci sia una componente romantica che ha guidato il ritorno di gondolo nei cataloghi di Patek Philippe. Inoltre, le referenze 7041 e 7042 richiamano le formose linee curve della cassa Cussà, ispirandosi alla referenza 176-209 del 1923. Questi modelli moderni incarnano perfettamente il connubio tra passato e presente. La storia dei cronometro gondolo ci offre una prospettiva unica sulla dedizione, l'innovazione e il successo di Patek Philippe. Questa avventura imprenditoriale fu resa possibile non solo dal duro lavoro e dall'impegno, ma anche dalle idee geniali. Patek Philippe, insieme ai soci brasiliani Carlos Gondolo e Paolo Laboriau, realizzò un'impresa straordinaria. La capacità di anticipare le tendenze e di innovare ha permesso a Patek Philippe di dominare il mercato sudamericano, distinguendosi durante un'epoca in cui la maggior parte delle altre aziende vendeva solo a pochi isolati di distanza. Loro hanno contribuito in modo significativo all'espansione del marchio in America Latina, tanto da prestare il loro cognome a una linea di orologi. Il club d'acquisto da loro creato nel 1903 ha anticipato i moderni consorzi, dimostrando che l'innovazione è sempre stata nel DNA di Patek Philippe. Inoltre, Patek Philippe continua a reinventare la linea gondolo con nuovi modelli che fondono il passato e il presente, mantenendo l'eleganza e la qualità che hanno reso famosa l'azienda. In conclusione, l'incredibile storia dei cronometro gondolo è una testimonianza della passione, dell'ingegnosità e dell'impegno di Patek Philippe, dimostrando che i veri orologi di lusso sono molto più di semplici macchine del tempo. Sono espressioni artistiche di un'epoca e testimonianze del genio umano.